Buon salve a tutti, io sono sempre a NotMeet, e bentornati su un gioco che personalmente adoro, No More Heroes. Iniziamo subito. Allora, dolce o salato? E da una vita che non ci gioco, ma facciamo salato e fan cool. Ora, voi probabilmente mi starete chiedendo, che cos'è No More Heroes? No More Heroes è un gioco per la Wii. Che figo che sei Travis. E... in poche parole è questo. Oh, sì. Man, she smelt good. She smelt good. Ma being the gentleman I am, I bought her a drink. Anywho, I decide to get a job. The gig? Assassinate the drifter. So I went where I was supposed to and waited for the guy to show up. And there he was. This cat. Well dressed, cool. Couldn't tell if he was the shit or just plain old shit. Yeah, so he's stylin', fast, aggressive and packing heat. Bada bing. Or at least it was supposed to be. Till she showed up. Her name? Sylvia Crystal, an agent with this Wachimacallon association. Congratulations. You are certified as the 11th best hitman. How about getting rid of the 10 killers above you and aim for the top? I want to be No. 1. How's that? Short and simple enough for you? It's gonna be a long, hard road. Who knows? Could kick ass. Could be dangerous. Could help you suck. What do you say, bro? Join me. Let's see how far we can take this. And for you there holding the Wii remote right now? Just press the A button. Let the bloodshed begin. No more heroes. No more heroes. Fuck it. Che cazzone che sei Travis Ah se pensate che sia un gioco intellettuale in cui bisogna pensare eccetera avete sbagliato di grosso Corridoi lunghi in cui bisogna uccidere gente e basta è una figata Ma non vale chiudermi le porte così però Dove lo trovi un vizio così figo da avere una spada laser Ok fermi un attimo che mi devo ricaricare la spada Non guardate però mi vergogno Guadà Via Bam Dove siete? Dai che vi massacro No 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 Leggermente circondato Aia Sali 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 Cos'è cos'è? Oddio sono Super Saiyan Va basta Non mi fermo più nessuno Sì se ve lo state chiedendo è un gioco leggermente casinista Non guardatemi Va Oddio si Figata Oddio che cattiveria Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete che vi massacro? Ok che cosa sta succedendo? Adoro questo gioco È il casino completo Salve Ah vedo che il tuo sforzo è lungo quanto il mio Mi suona il cello Pronto mi suona il remote Grazie Va bene Come l'hai detto I of the tiger? Stai calma Non male sta casa Un po' spoglia forse Io direi che è ora di salvare Già Salviamo Finito di salvare Ti sei lavato le mani? Becca Beccala Beccala Perché ti spogli non netto? Ah non è una valiglia E che cos'è no? Non puoi avere una spada grande come te No No però eh Calmissimo Ti colpisco tantissimo Ah sul fianco Non te l'aspettavi eh Guardalo che bravo che sono Yes Calmissimi Cos'è sta storia di tre persone? No 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 Ahia Non ce ne possono essere tre Non vale No come? Carica 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 Veloce Hai di nuovo metà vita No 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 Ahia Colpiscilo però Non lo colpisce No 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 Eh vabbè Oh yes Che cavolo se le prega? Oh yes Grazie Non mi puoi dire così però Non puoi farlo Grazie What? Do I get anything? Hmm How about some cash? That should help you pay the bills I'm not feeling the sense of accomplishment that I should have So I just got to do this a few more times right? If you so choose yes And you will keep your promise? There is nothing the association cannot do And if I refuse As the 10th ranked assassin You are now a target for those who want to replace you For those who Anywhere Number 11 could be right around the corner Ready to put a knife in your eye So what you're telling me is that I gotta continue fighting There's no way out of this You set me up bitch Bitch Science Bitch There's only one road out of here No turning back Okay how about this If I become number one Will you do it with me? Hmm Maybe Come lo dai Come on just once Eh? Bene Dal trono direi che per oggi basta Grazie per aver guardato il video Spero vi sia piaciuto E ci si rivede alla prossima Ciao Per fortuna che non ho messo la webcam